Musica Salvatore, qui a Gussago domani mattina, Francesca Adamo apre il suo laboratorio per un'esposizione giornaliera. Come è nata questa idea? Allora, questa giornata fa parte del laboratorio Galleri e Galleri è un progetto che nasce all'interno delle giornate del contemporaneo. Nasce nel 2020 inizialmente, proprio nel momento peggiore della pandemia e nasce da un'esigenza. Il fatto di essere richiusi in casa, di esserci isolati completamente da quella che è la società, porta un artista che è Liala Polato, Lia Code, a cercare una visione diversa del proprio lavoro. Per cui riappropriarsi di quella che è la quotidianità della persona e dell'artista all'interno dei propri spazi. Per cui l'idea è stata quella di aprire la casa, non come galleria, ma proprio come spazio vissuto quotidianamente da un artista con le proprie opere. E questo è stato nel 2020. Il progetto si è ampliato, per cui da House Gallery, così è partito, è diventato un Garden Gallery. Perché? Perché doveva ampliarsi il progetto, per cui estendere anche questa visione ad altri artisti e alle persone. Per cui si è utilizzata sia l'abitazione per le opere di Lia Code, ma anche il giardino con l'intervento di altri artisti che venivano sia da Brescia ma anche fuori Brescia, la strada con delle performance di street art e anche una parte di artisti, i famosi graffiti che si dicono così, all'interno proprio di questa struttura che era una galleria sulla strada. Il passaggio ulteriore è ovviamente dalla casa al giardino qual è l'altro spazio importante per un artista. È lo studio dove vive, dove crea e dove dà il meglio della propria personalità. Per cui gioco forza che si passasse a uno studio di un artista. In questo caso è stato un passaggio di testimone da appunto del Lia Code a Francesca Adamo. Un passaggio voluto perché siamo all'interno della stessa città, Gussago, ma che poi si amplierà successivamente su altri paesi e su altre città. In questo caso Francesca Adamo perché siamo vicini appunto a Lia Code, ha un linguaggio comune a Lia Code. Infatti noi troveremo anche delle opere sull'esterno che accompagnano proprio il visitatore all'interno dello studio. E perché c'è un'evoluzione sul linguaggio di Francesca Adamo che si lega molto al discorso dell'interiorità e appunto da quella che era l'idea del laboratorio, del gallery iniziale. Perché se all'interno della casa dell'artista abbiamo trovato la quotidianità dell'artista con le cose che vive tutti i giorni, in questo caso troviamo le cose che l'artista utilizza per creare le proprie opere. Infatti in questo studio il visitatore troverà sia oggetti che l'artista usa quotidianamente, per cui pennelli, colori, ma troverà anche dei riferimenti alla storia dell'artista. Per cui degli oggetti che ricordano l'infanzia, che ricordano delle persone care. Proprio quella che è l'interiorità dell'artista che lo porta poi a creare questi oggetti. L'idea di questa gallery è quella di cambiare la visione di quello che è la persona che viene all'interno. Nel senso che non è più un visitatore, ma diventa un ospite. Cioè diventa parte integrante e parte fondamentale di quella che è l'opera artistica. Questo è il progetto in generale. Dal laboratorio di casa tua il testimone passa qui a Francesca. Come ti senti oggi nel passare questo testimone? Questo è un progetto al quale io tengo tantissimo. E sono molto onorata che un'altra artista di spessore come Francesca Adamo l'abbia effettivamente sposato. Non è stato compreso l'anno scorso e quindi non ho potuto fare questo passaggio di testimone e ho chiamato altri artisti in effetti alla House Gallery Garden. In questo caso l'emozione mia è quella di poter portare delle mie opere come passaggio effettivo e come testimonianza del mio operato all'artista Francesca Adamo. e nella speranza che venga veramente compreso non solo il nostro fare, ma proprio l'idea del progetto, cioè di queste giornate del contemporaneo che possano portare l'arte contemporanea, cioè le diverse visioni, perché effettivamente abbiamo delle cose in comune, perché altrimenti Francesca non avrebbe compreso il progetto. Però abbiamo anche una modalità differente. Io utilizzo dei materiali, lei ne utilizza degli altri. E ampliare questa visione dell'arte contemporanea alla popolazione, io chiamerei popolazione, alla gente del posto, perché effettivamente il progetto è proprio questo, far capire che l'arte fa parte della nostra quotidianità. Nel mio caso era la casa, in questo caso è il laboratorio, l'avvicinare a questo mondo che a volte sembra così lontano, ma è talmente vicino a noi, perché lo vediamo in continuazione, a ogni passo che facciamo possiamo trovare dei momenti artistici e magari alzare la qualità di questi momenti. Fondamentalmente utilizzare il nostro fare, la nostra quotidianità, la nostra arte per essere nel popolo. Questo qui un po' è il filone conduttore che dovrebbe essere mantenuto. Francesca, il tuo laboratorio domani diventa un po' la casa di tutti. Ricevuto il testimone Dalia Code, può essere che domani qualcuno prenda il testimone da te e cominci a entrare nel mondo dell'arte? Questa è la speranza assolutamente, nel senso che la staffetta appena iniziata ha iniziato Liala, che ringrazio assolutamente, perché comunque mi sento onorata di essere stata il primo passaggio di testimone. e quindi sì, l'augurio è ovviamente che di arte ce ne sia sempre di più e che la gente appunto possa vedere, tutti possano vedere che non è che per forza l'artista è dietro all'opera, ma fa parte, è parte integrante dell'opera e del posto nel quale comunque realizza e sogna. Quindi ecco che dire, sono assolutamente molto felice, quindi ci si augura che l'anno prossimo qualcun altro abbia voglia di continuare questa strada. Grazie per la visione!